E' indispensabile da sapere! Sì, è piacevole cominciare con la parola di assenso. Sì, da, da. A volte però non c'è scelta e siamo costretti a dire no. Chi vi sente capisce subito che per noi no è no, niet, niet. Adesso che abbiamo una base di sì e no, è il momento di chiedere qualcosa dicendo per favore. Se accettano, vorremmo certo ringraziare. Si può dire semplicemente grazie. O si può enfatizzare con molte grazie o grazie mille. Generalmente riceverete la risposta standard, tipo E' stato un piacere o il più modesto. Non c'è di che. Ne za che. Ne za che. Ecco che sappiamo già due parole. Sì, grazie. Da, пожалуйста. Da, пожалуйста. Oppure, no, grazie. Scusi è una parola interessante. Si usa per essere cortesi, attrarre l'attenzione di qualcuno, commentare, domandare qualcosa. Come in... Scusi serve anche a chiedere scusa. Oh, scusi, non intendevo. Se facciamo male a qualcuno, diciamo Scusi, scusa. Prasupraschenia. Prasupraschenia. Se siamo davvero dispiaciuti o per scusarci, diciamo Spiacente. Prastite, prastite. Se tutto va bene, potete rispondere Va bene. Normale. Normale. Passiamo a qualche frase per quando ci si incontra. La prima parola sarà Salve o Ciao. Privet. Privet. E per congedarsi, in italiano si può dire sempre Ciao, ma si usa anche Arrivederci. Do svidania. Do svidania. A volte si intende davvero Ci rivediamo. Altre è solo una formalità E ad ogni modo diciamo Arrivederci. Pa'cà. Pa'cà. Chissà perché. In quasi tutte le lingue c'è un saluto speciale per il primo incontro del mattino. Se incontriamo qualcuno la mattina, gli diciamo Buongiorno. Dobre utro. Dobre utro. Dobre utro. Non manca neanche un saluto speciale per il pomeriggio, come Buon pomeriggio. Se si incontra qualcuno la sera, gli si dice Buona sera. Dobry veicer. Dobry veicer. Dopo una buona nottata di sonno, siamo felici di cominciare un nuovo giorno. Oppure riceviamo un ospite o veniamo accolti calorosamente da una persona. Benvenuto. Dobro pожалovat. Dobro pожалovat. Quando ci si incontra, si pongono domande formali che mostrano interessamento senza richiedere una risposta dettagliata. Così. Si può anche domandare, come te la passi, intendendo come vanno le cose? L'interlocutore, se non è un amico intimo, si aspetterà una risposta educata, non una lista di lamentele. Può bastare un bene, grazie. Spasibo, хорошо. Spasibo, хорошо. Oh, da me va tutto bene. E da lei, e da te? Se nessuno si è lamentato troppo e tutto è andato bene, si può concludere molto educatamente. È stato un vero piacere. L'ospite ribatterà, il piacere è tutto mio. Sì, è sempre meglio essere gentili. Si può dire appunto, il piacere è tutto mio. S'udovolstviem. S'udovolstviem. E ora concludiamo salute e formalità con un augurio. Le auguro... Si può aggiungere i miei migliori auguri o semplicemente... Buona fortuna! Si può anche augurare più specificamente salute e felicità. Ci sono auguri di buone feste. Si augura sempre buon anno! E per accomiatarsi... Buon viaggio! Ehi tu, quanti anni hai? Buon compleanno! S' dnion rаждenia! S' dnion rаждenia! Il giorno dell'anniversario si augura buon anniversario. S' godavcine! S' godavcine! Godetevi la permanenza! Buon soggiorno! Ssiesti via以下! Sciessi via e guonai! E buona giornata! Приятного дня! Приятного дня! Si può sempre augurare... Ongi bene! Se vuoi ascoltare! Se vuoi ascoltare! Vale cooi! Se vuoi accoltare! Grazie a tutti.